Andiamo allora a calcolare il metodo con il metodo della massima verosemiglianza i parametri della curva di Gumbel. Il metodo della massima verosemiglianza è la traduzione dell'inglese maximum likelihood o viceversa se volete. Di nuovo il metodo ha validità generale e si fonda su ipotesi differenti da quelle che abbiamo fatto in precedenza. Invece in questo caso noi andiamo a considerare tutta la nostra serie temporale che è composta da n elementi H1 ed Hn e ci andiamo a calcolare la probabilità di ottenere questa serie temporale congiunta di ottenere tutti questi n valori in funzione dei parametri A e B. Allora, in realtà quello che possiamo sostituire in base ad alcune semplici considerazioni, l'idea che ottenere la probabilità di questi parametri è uguale ad ottenere la probabilità di questi parametri assegnate i parametri A e B. La prima sulla sinistra in realtà è la probabilità congiunta e la prima sulla destra invece è una probabilità condizionale. Questa probabilità condizionale. Se facciamo l'ipotesi dell'indipendenza delle osservazioni H1 ed Hn, la possiamo esprimere come la produttoria delle probabilità dei singoli valori. Questo in quanto i nostri valori sono valori dei massimi annuali, possiamo con una certa sicurezza pensare che i valori dei massimi annuali di due anni successivi siano tra loro indipendenti, anche se questo non è sempre scontato da un punto di vista fisico, perché per esempio in alcune situazioni in cui ci sono dei fenomeni di teleconnessione, per esempio il nino e l'ossidazione, il nino e la nina in Sud America, potremmo anche portare degli argomenti sul fatto che i massimi annuali di un anno sono correlati ai massimi annuali dell'anno successivo. Tuttavia questa ipotesi noi qui la facciamo, cioè non vi ho solo fatto questa nota perché potrebbe non sempre essere vero, che sono indipendenti fra di loro ciascuna delle misure, però noi qui lo assumiamo. Assumendolo possiamo esprimere una probabilità congiunta che ha una formulazione a noi non nota, secondo una formulazione è una funzione di n variabili, quindi sono in uno spazio n più 1 dimensionale e la posso ridurre alla conoscenza di uno spazio semplicemente bidimensionale in cui una delle incognite è la variabile h e l'altra incognita è la probabilità e poi posso pescare sempre dalla stessa distribuzione per tutti i valori. Quindi la probabilità congiunta in questo caso è la produttoria degli singoli valori di probabilità. È lo stesso concetto che si ha nella teoria delle probabilità elementari in cui per esempio mi chiedo qual è la probabilità di estrarre un bianco o nero da un bussolotto contenente le palline. Allora estrago prima una pallina, poi ributto dentro la pallina, estrago una seconda pallina, i due eventi se l'operazione è fatta bene sono fra loro indipendenti e la probabilità congiunta di ottenere per esempio due palline nere è uguale al prodotto della probabilità di ottenere due volte una pallina nera. Allo stesso modo funziona in questo caso. Sarebbe meglio vedere appunto la probabilità della serie temporale come la probabilità in realtà dei parametri perché noi stiamo ragionando sulla probabilità di ottenere una serie temporale però quello che alla fine vogliamo ottenere sono i parametri più probabili e infine i conti ci poniamo questa domanda. Quali sono tra tutti i parametri possibili assegnata a questa serie di dati che noi abbiamo i parametri più probabili? Fortunatamente il teorema di bias ci viene a supporto e possiamo dire che questa probabilità è esattamente quella di cui abbiamo discusso nelle slide precedenti cioè la produttoria delle probabilità di singoli HI assegnati A e B. In cui come vedete nella formula a destra ho assegnato A e B e mi calcolo la probabilità degli H con I. Nella formula a sinistra invece ho la probabilità di A e B assegnata alla serie temporale. Concetto un po' diverso che non elaboro oltre. Questo però per dire che nel metodo della massima verosimiglianza entro certi limitri si può assumere che i parametri che io vado a calcolare sono quelli più probabili. Supponiamo per esempio qui avete una curva in cui ho due valori A e B. È una superficie molto complessa, quindi ho una superficie molto complessa e nelle ordinate ho la probabilità di A e B. I massimi di questa funzione sono i puntini rossi e io devo andare a cercare qual è la massima probabilità di A e B. Quindi tra tutti questi picchi sono i punti di quello più alto. La funzione è disegnata in maniera opportuna, in modo complicato per dire che questa ricerca dei massimi di A e B non sempre è semplice. Nel caso della curva di Gumbel in verità è relativamente semplice perché la curva ha un comportamento, la curva di verosimiglianza è un comportamento regolare e andiamo a vedere come fare. Devo calcolare la produttoria che sta diciamo al denominatore. La produttoria per i che va da 1 ad n di P di H con i assegnati A e B. Spesso, soprattutto in passato, non si è calcolata la probabilità congiunta, ma il logaritmo della probabilità congiunta che si chiama log verosimiglianza, per cui in letteratura si trova spesso calcolo da log verosimiglianza. La ragione per l'applicazione di questo logaritmo è che la produttoria che compariva nelle formule precedenti, tipo questa in basso, una volta applicato il logaritmo diventa una somma dei logaritmi. Questa operazione naturalmente ha senso se l'applicazione del logaritmo non altera la posizione dei massimi della curva che vado a cercare. Supponiamo che questa sia la superficie che noi stiamo analizzando, di cui vogliamo determinare i massimi. Se noi applichiamo il logaritmo alla probabilità, che cosa facciamo? Schiacciamo la curva, ma non andiamo ad alterare in nessun modo la posizione dei massimi, che rimangono localizzati nello stesso posto. Per esempio, questo primo picco che vediamo posizionato più o meno a B uguale 70 e A uguale a 30, invece di essere 100, se applichiamo il logaritmo in base 10, sarà 10, ma rimarrà sempre un picco, un massimo relativo della funzione. Quindi viene applicato il logaritmo alla nostra funzione. Come si fa a trovare il massimo di una funzione? Beh, semplicemente per trovare il massimo di una funzione si va a derivare la funzione rispetto ai parametri, che in questo caso sono A e D, e si pone la derivata dei parametri uguale a 0, esattamente come si è imparato nei corsi elementari di analisi. Il problema sorge quando questo sistema, anziché essere lineare, non lineare, ma qui è di sicuro non lineare, perché la mia curva di probabilità è una curva che ha un doppio esponenziale, per cui anche se prendo un logaritmo che mi cancella un esponenziale, mi rimangono delle equazioni trascendenti. Allora andiamo a fare tutti i calcoli uno per uno, cercando di semplificare che cosa significhi appunto queste cose che ho detto in precedenza. Chiamiamo x nella nostra variabile aleatoria, il suo campione lo chiamiamo x1xn. Prima l'avevo chiamato h, ma non cambia nulla. Allora la probabilità di che x sia minore di x piccolo, assegnati i parametri a e b, è uguale ad e elevato alla meno e per meno x meno a diviso b. Un altro aspetto che non avevo considerato finora era che quella in azzurrino è la curva di probabilità, mentre qui per calcolare la mia verosimiglianza ho bisogno della densità di probabilità. Per ottenere la densità di probabilità derivo la curva superiore rispetto ad x e quello che ottengo è b alla meno 1 e alla meno x meno a diviso b per e alla funzione e meno e meno x elevato, scusate, e alla meno e elevato alla meno x meno a diviso b, secondo le regole normali di derivazione a catena che noi conosciamo sempre dal calcolo. Quindi questa è la nostra funzione di densità di probabilità. Questa è la derivata della funzione, questa è la derivata dell'esponente e questa alla fine è la derivata dell'esponente dell'esponente. Come si deve fare? La verosimiglianza sul nostro campione quindi risulta espressa in questo modo. La produttoria della densità di probabilità è uguale b alla meno 1 che è un coefficiente che è uguale per tutti e va a moltiplicare la produttoria. Poi gli altri termini rimangono dentro la produttoria perché contengono ciascuno, ciascuno contiene la x con i. Se vado a calcolare il logaritmo di questa quantità e trasformo gli esponenziali, trasformo le produttorie in sommatorie e faccio sparire gli esponenziali. Questi sono tutti i calcoli che ho fatto a mano di tutto quanto. Vado a calcolare il logaritmo e ottengo che il logaritmo di P è uguale al logaritmo di B alla meno 1 per E per la formula che ho generato prima. E questo a sua volta è uguale al logaritmo di B alla meno 1 più x i meno a diviso B meno l'esponenziale e alla meno x i meno a diviso B. Questo è un singolo addendo della somma. Quindi devo sommare su tutti gli x con i. A questo punto le formule che devo derivare sono queste che sono rappresentate qui. Se voi state tentando di riscriverle a mano impiegate un po', usate invece le slide direttamente, scrivete direttamente sulle slide magari. E questo è il sistema che devo risolvere. È un sistema trascendente perché contiene, come vedete, la prima equazione contiene una sommatoria di esponenziali e così pure la seconda equazione. In realtà il sistema si può ancora rimaneggiare un po' nel modo che vedete rappresentato qui, dove con opportune cambiamenti, per cui in qualche modo si può semplificare nella scrittura. Il punto fondamentale però è che questo sistema, sia che lo scrive in questa forma oppure in questa forma che può risultare più compatta, è un sistema non lineare, quindi lo devo risolvere con un metodo iterativo numerico e non ho una formula chiusa per risolverlo. Gli x con i, vi ricordo, qui dentro sono dei numeri, perché corrispondono ai valori che io ho misurato. E mentre le incognite sono la B e la A. Dalla seconda equazione qui ricavo la B con un metodo iterativo. Una volta ricavata la B e sostituendola nella prima equazione mi ricavo la A. Questa è la procedura logica. La procedura pratica poi per risolvere questo sistema, adesso non posso interagire con voi finché non scopro il modo di attivare la chatta e di attivare le vostre voci, però il modo per risolverlo è un sistema iterativo in cui io faccio un'ipotesi sulla soluzione, cioè su quali sono gli zeri di questo sistema, vado a verificare se la soluzione è buona o cattiva, poi faccio una seconda ipotesi e per esempio assodato che queste due funzioni sono due funzioni continue, quello che può succedere è che io ottenga una soluzione dei valori negativi e dei valori positivi di questo sistema. A questo punto io ho, quello che sto dicendo è che posso trovare un intervallo in cui questa soluzione è compresa, una volta trovato l'intervallo posso usare il metodo della bisezione. Leo Luca, lei sa che cos'è il metodo della bisezione visto che la vedo? Gli altri si sono dati come sì o no? Gli altri si sono dati come sì o no? Gli noi sappiamo cos'è la bisezione più o meno. E Romanelli sembra sapere che cos'è la bisezione. Magari vi caricherò un po' di informazione su cos'è il metodo della bisezione. Per voi in realtà questo non è un problema perché noi useremo un algoritmo già implementato che ha assegnati i parametri, i valori delle x con i ci dà direttamente i parametri delle a con i semplicemente con un semplice click. Però per voi sapere quali sono i metodi numerici che stanno dietro certamente ha un qualche valore. Il metodo più semplice si chiama metodo della bisezione UL era un altro metodo di cui sicuramente avete sentito parlare, si chiama metodo di Newton. Ma su questo magari vi mando un piccolo sketch che vi registro a voce offline e poi vi carico sulle lezioni. Io direi oggi di fermarmi, direi che mi fermo qua per oggi. E poi invece nella prossima lezione riprendo il metodo dei minimi quadrati che dal resto vi deve essere noto e magari riesco anche a risolvere il problema dell'interazione via voce e quindi avremo un'interazione più attiva e quindi vi do appuntamento a venerdì. Per venerdì vi carico anche e quindi vi do appuntamento a venerdì. Grazie. Grazie. Grazie.